Grazie a tutti. Vai Ligia, vai, vai! Ligia tagli le mani! Ligia tagli le mani! Sì, questo lo devi fare Vai! Arriva, arriva, arriva Ma è pure i piccioni che vogliono imitarli I piccioni che vogliono imitare gli aerei Il numero è rosso e verde Ma c'è anche un po' Ma questo è più strato Ma questi che aerei sono? Eccolo! 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 No ragazzi, formate un po' aerei Vabbè è finito già il motore Ma devono ricaricarlo Il solista è molto più veloce di loro Qua l'intercetta Si trattivisi Ha rotto il motore Motore nel box E' in stallo ragazzi E' in stallo E' in stallo Un po' aerei Un po' aerei Un po' aerei Chiaro Siamo a scrivere un grazie vieste con il gioco. Siamo a scrivere un grazie. Grazie a tutti.